Dagli spettacoli teatrali agli appuntamenti con la salute al femminile per concludere con una serie di conferenze è tutto pronto per le celebrazioni della festa della donna. È stato infatti presentato il calendario delle iniziative in provincia di Arezzo. Anche quest'anno abbiamo messo insieme tutte le iniziative realizzate nella provincia con una bella brochure, un bel pieghevole che le raccoglie tutte. Davvero tutti sono messi a disposizione, sono messi in gioco amministrazioni comunali, sindacati, associazioni, azienda sanitaria per promuovere e celebrare la figura della donna. Tante iniziative, tutte molto belle, ci sono ancora anche qualcuna riguardante il mondo del lavoro perché una sottolineatura da fare in questo 8 marzo è che ancora ci sono tanti problemi nel mondo del lavoro. La maternità è motivo di esclusione dal lavoro, ancora oggi nonostante le tante norme che sono state fatte, soprattutto perché è difficile mettere insieme le esigenze dei datori di lavoro con le esigenze delle attività di cura delle donne. Si può fare perché le norme ci sono, si può fare con difficoltà ma collaborando anche con l'istituzione, anche con la consigliera di parità che è il ruolo che rivesto. Grazie.